E che cazzo succede? Ragazzi buongiorno Ragazzi buon porno Ragazzi buon tonno Oggi voglio Oggi Voglio Ma la finiamo? Ma chi? E Amal come sempre Amal vai fuori! Tu Magalli che stai facendo? Eh stiro le camicie Non puoi fumare in classe! Minchia per una volta che non hai una canna? Questa è una scuola! Posso andare a cacare o mi sparano? Ma chi? Dai Amal vieni dentro Anche sua moglie me lo dice sempre Siete una classe di merda Casciutto Ragazzi buongiorno Aaaaaaah Zipennia Tu Magalli fai il bravo Va 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 di Ok mi hai rotto il cazzo ti interrogo